Lo so che per dimagrire senza dieta bisogna seguire un'alimentazione sana, bere acqua, fare tanto sport, mangiare frutta e verdura, mangiare le fibre, grassi buoni... Ma allora, perché non riesco a dimagrire? Vedo che ti sei data da fare per studiare la teoria del dimagrimento naturale, ma come va con la pratica? Un disastro! I miei rotolini sono immuni a tutto, ma non è colpa tua e nemmeno dei rotolini. E posso dirti perché succede. Non riesci a dimagrire nonostante tutti i tuoi sforzi perché sai cosa fare in teoria, ma non sai come fare, come metterlo in pratica. Ecco perché non ottieni risultati giorno dopo giorno. Ma tranquilla però, non sei l'unica, infatti questo non lo spiega nessuno. Così io ho deciso di andare controcorrente e lo spiegherò. Sono Simona Vignali, naturopata e coach di salute naturale. E da 25 anni mi occupo di dimagrimento naturale fisiologico e ho aiutato migliaia di donne a dimagrire senza stare un giorno a dieta. Ti aspetto nel mio evento in diretta, nel mio video training gratuito il 10 maggio. Spiegherò esattamente perché non riesci a dimagrire nonostante la dieta, lo sport, le privazioni, le rinunce, la vita sana. E condividerò con te le azioni più importanti che puoi mettere subito in pratica quando cerchi di dimagrire senza dieta. E soprattutto come non riprendere mai più i chili persi. Trovi tutte le info nel link abbinato a questo video. Sarà qualcosa di straordinario, ma non lo dico io, lo dicono tutte le donne che seguono il mio metodo per dimagrire senza dieta. Loro sanno come rimanere in forma senza rinunciare a nulla, anzi, spesso mangiano di più e dimagriscono. Com'è possibile? Ti spiego tutto il 10 maggio. Non devi mancare, ti aspetto. Ho perso 5 chili. I primi sono andati via subito. Praticamente mi sono proprio sgonfiata. Allora ero 7 chili all'incirca, sì. E alla fine di questo percorso quanto hai perso? Eh sì, 7 chili, 7 e mezzo all'incirca. Mi sono vista sgonfiare. Ma non svuotata come succede nelle classiche diete che ti senti flaccida. Proprio mi sono sgonfiata nei punti critici di noi donne. I fianchi, la pancia, le gambe, le caviglie. Tantissimo. Ho perso peso assolutamente. Certo, ho perso due taglie. C'è stato un periodo che addirittura avevano una velocità pazzesca. Cioè di giorno in giorno si vedeva la differenza della gamba. Questo è bellissimo. Ho perso sui 9 chili. Il massimo ho perso in questi tre mesi quasi 6 chili. È bello ritrovarmi nel mio corpo. E sento anche più giovane, era una cosa bella. Io quasi sui 5 chili ho perso. Sono molto più sicura di me stessa, ma anche molto più consapevole di poter fare le cose. In modo che in un futuro non possa fare più gli errori che ho fatto io. Mi sento, ho molta più energia. E soprattutto ho ripreso anche a dormire. Quindi sono più pimpante durante la giornata. Veramente eccezionale. Ti devo ringraziare perché sei stata veramente favolosa. È la prima volta, guardia. Se vuoi sapere come hanno fatto tutte queste donne a dimagrire in salute senza dieta, sentendosi in forma più energica e vitali oggi di quando avevano 25 o 30 anni, devi assolutamente seguire il mio video training in diretta il 10 maggio. La primavera sta per scoppiare in tutto il suo splendore. La stagione calda è alle porte. Questo è il momento giusto per riprendere anche tu il controllo del tuo peso, della tua forma fisica, della tua salute, del tuo benessere, della tua vita. Registrati adesso. Io ti aspetto nel video training naturalmente. Ciao da Simona Vignali.